e mi trovo qui con bruno giocatore dell'ecuador intanto facciamo anche un grande saluto al pubblico è numeroso innanzitutto un breve riassunto sulla partita avevamo giocato una partita difficile anche se noto che stiamo al completo della forma però abbiamo giocato loro e io sono un buon equip e l'importante è che abbiamo gannato abbiamo gannato il terzo posto e solo bene l'importante era divertirlo dopo abbiamo giocato una bella partita tutti due belle squadre abbiamo fatto un po di fatica perché non tutti eravamo il pieno della forma l'importante era vincere abbiamo preso il terzo posto e niente divertirci quella è la bella giornata di questa quanto è stato significativo per te l'esperienza del mondialismo è da quattro anni che lo faccio l'ho vinto un anno è bello comunque ci facciamo un pomeriggio con la famiglia con gli amici tanto qua tutti ci conosciamo l'importante è venireci a passare un bel weekend con tutti insieme domanda che si chiedono in molti ma ieri come hai fatto a giocare due partite di fine teoria ne ho fatto tre fatto 11 dopo alle quattro e dopo sono tornato quale cinque mezza e sono adesso un po concio devo riposarmi per martedì perché una finale per il provinciale niente vedremo cosa succede anche la muchas gracias si dice così si si grazie mille e un boccalupo per la finale ciao grazie mille ciao ciao